Allora, nipotini stesso scenario, siamo a Jesolo, giochi da spiaggia, mai non avevo ancora capito se Greta provocare Sergio o Sergio provocare Greta, ma qua finisce sempre che i due si o si buttano l'acqua o si tirano, vabbè, insomma se è Greta che sta facendo, come i bambini proprio, questo castello di sabbia con tanto di paletta secchiello e Sergio va a rompere le palle come sempre, poi alla fine vedrete la scena, secondo me lui, il video è lampato silenzioso, però guardando la gestualità di Sergio si capisce che lui dice ti sei pazza, tu sei pazza, comunque vabbè, quantomeno si diverte, sotto il sole e in spiaggia cosa si fa, o si legge o si nuota o ci si rompe le palle a vicenda come fanno loro due, secondo me invece questa è una copia ben assortita perché non tutte le erano, io per esempio mi fanno una cosa del genere ma io non ci sarei, insomma Greta e Sergio sono una coppia veramente ben assortita, noi la solchieriamo sempre e vi aspetto, ciao!